Vai cammina, più veloce, bello viene, giro di Troina, questo è il giro di Troina, eseguito il giorno 17 di agosto del 2003 alle ore 1.30, pomeridiano, mi correggo 2013, ci metto l'auto, ci metto la musica, ripeto è il giro del paese di Troina in provincia di Enna, eseguito il 17 di agosto, del 2013 alle ore 13.15, adesso siamo nella zona di Piazza Nuova, stiamo per arrivare la Piazza Nuova, sono le due piazzette antecedenti alla piazza, in particolare in Piazza Nuova stasera e domani sera ci sarà la festa della PD, partito democratico. che è riondzi in Piazza Nuova. Questa è la piazza di San Basilio, quartiere di San Basilio, stiamo per arrivare alla zona del cosiddetto lungomaro, o della frana, questa è una zona nuova. Questa è la zona del bar nazionale, stiamo per arrivare nella zona della posta, a destra via Marino, il dialetto giacata, il bar sport, rinomato per la vastedda e la posta. Questa è il quartiere Borgo, la parte più bassa, a punto Burio e qui saliamo la via, se non sbaglio Garibaldi. Sopra la chiesa di San Sebastiano, e questa è la via che porta a San Pietro, porta al commento di San D'Agostino. Uno sguardo al quartiere in alto della piazza vecchia che non frequenteremo, in cui non andremo. E questo è lo slargo prima del convento di San D'Agostino colloggiato. Questo è tutto il quartiere Scalforio, nella parte in alto a destra, e a destra si può andare alla chiesa di San Rocco. Il nostro giro sta per finire. Arriveremo allo stretto di San Giorgio, a un bivio che porta per Catania, dritto a sinistra Cesarò. Sulla nostra sinistra forse si è potuta vedere la diga dell'Ancipa. e arriveremo proprio all'inizio dello stretto di San Giorgio, da dove siamo partiti. Arrivederci, a presto. Saluti a tutti gli spettatori. Saluti a tutti i nostri spettatori, a tutti i nostri spettatori, a tutti i nostri spettatori